Borgotaro Calcio Gianni Giorgio, buonasera a tutti, Fornovo E vai Sirati Fabrizio, A.S.Bardi Gigi Solari, A.S.D. Bardi Adesso chissà dove si arriva Gianpaolo Moglia, Bedognese, buonasera a tutti Serpagli Francesco, Bedognese Perfetto, abbiamo presentato gli ospiti Cambiamo un po' la scaletta, caro Gianluigi, questa sera Nel senso che ci dicono sempre che lasciamo gli sport cosiddetti non calcistici in fondo Allora cominciamo subito con una strepitosa vittoria della Valtarese Robi Profumi contro Aix Forlì 51 a 47 Leggo in post sommario che cosa è successo La Robi Profumi è stata impegnata venerdì sera Con il Forlì dell'esperta Pantani ed è riuscita a despugnare al Pallaromiti Con un punteggio di 51 a 46 Ritmi alterni, dicono, descrive l'articolo Un primo in vantaggio abbondantemente le Valteresi Addirittura 14 a 7 Poi completamente capovolto 28 a 22 Ma quello che conta è il finale 51 a 47 E naturalmente Molto bravi come sempre Sono stati Marchini, Trevisan, Petrilli Meschi Insomma, tutte veramente All'altezza della più grande situazione Per cui è importante Quello che è successo In questo frangente 51 a 47 Per cui seconda vittoria In bocca al lupo Ai ragazzi invece Del Artaredo MG Del coach della Pina Che scenderanno in campo Appunto domani pomeriggio Al Palaraschi Per cui un in bocca al lupo Spero di non aver sbagliato nulla Perché sicuramente Ce la faranno anche loro Ad inanellare un altro successo E mentre l'influenza Trionfa qui anche in diretta Parliamo dei giovani Adesso non di basket Che ci vorrebbero ne sferto A sviscerare tutti quanti i risultati Ma parliamo di giovani E ne parleremo a lungo stasera Per esempio I risultati della Bedognese Sono stati questi 2007 Virtus Bedognese 5 a 3 2005 Il Castello Bedognese Vince la Bedognese 2 a 1 Il 2003 Oratori Maffini Contro Bedognese 1 a 2 Vince ancora la Bedognese Bedognese Solignano 2001 3 a 2 Vediamo anche però La Valtarese La Valtarese Sempre giovani Vico Fertile Valtarese 0 a 3 Allievi interregionali Invece Progetto inteso Valtarese 6 a 1 Insomma una battuta Da resto Giovanissimi Provinciali Valtarese Montebello 3 a 1 Valtarese Ancora bene Esordienti 2003 Valtarese Arsenal Invece C'è una sconfitta Per 3 a 0 Della Valtarese E esordienti 2004 Invece Arsenal Valgotra In questo caso Valgotra 1 a 0 Per l'Arsenal Così abbiamo archiviato Tutto quello Che era Lo sport Minore Per quanto riguarda Il calcio Nei giovani E il basket Che non è per niente Minore Per visto i risultati Che sta ottenendo La palacanestra Locale E ad offrirvi Tutto questo Sono stati Autoscuola Borgotarese Di Mela e Stefano E Federica Dove puoi trovare Tutte le patenti Di qualsiasi categoria Corsi CQC Corsi di recupero punti Di cui abbiamo Tutti A in me bisogno Di sbrigo Pratica Automobilistica Passaggio Proprietà In 24 ore Insomma La grande efficienza Dell'autoscuola Borgotarese Di Mela e Stefano E Federica Viale Montegrappa A Borgotaro Un investimento Sicuro È quello Di Zetta M Infissi Di Zucconi Massimo Fistral Porte Finestre Persiani In PVC La sede Showroom È a Borgo Valditaro E naturalmente A Bardi Anche un distaccamento A Bardi La produzione In via Pieve A Borgo Valditaro E-mail Info ZM Infissi Punto It Per saperne di più Telefonare direttamente A Zucconi Massimo E poi vedrete Dalla prossima settimana Lo spot Rimanendo nei paraggi Un altro consiglio importante Centro Edile Con telefono 0525 9212 18 Via Pieve 4bis A Borgo Valditaro La soluzione ideale Se dovete Naturalmente Fare Ristrutturare Una casa O fare Ex novo Una casa Tutto Il materiale Edile A vostra disposizione Con qualità E prezzi E consulenze Completamente gratis Tutto questo Centro Edile In via Pieve 4bis A Borgo Valditaro Con telefono 0525 9212 18 E adesso Direi Caro Jean Paul Di presentare Un po' più Nei dettagli Per poi passare Alla pubblicità Invece visiva Ai nostri ospiti Con una domanda Secca Velocissima Per tutti Risposta Per cui Veloce Sino a questo punto Avresti firmato Per la classifica Che avete Certamente Adesso Sentiamo Proprio stretta La domanda Tre punti in più Li avrei voluti E il ghilo Il ghilo Mi mancano Manca a me Tre punti Però sono Moderatamente Soddisfatto Io direi Che sono molto Soddisfatto E anche io Di firme Direi almeno Un paio Ce le mettevo Su questa classifica Poi con te Ricordami Che dobbiamo Parlare Di giovani Sì volevo Sì volevo aggiungere Che Ai risultati Che ha dato Dei giovani Che noi Del 2008 Del Bardi Abbiamo battuto Una zeola Audace Di quello Che ha detto Lei sui giovani Così abbiamo Completato Valtare Valceno Sentiamo Bedogna Bene Rispetto all'anno Scorso Però Qualcosina Di più Forse La meritavamo Il collega Gianpaolo Probabilmente Avrei messo La firma Però Qualche punticini In più Avremmo potuto Sicuramente Insomma Lo soddisfatto Unico è lui Tutti gli altri No anche te Anche te Abbastanza soddisfatto Vabbè Palla la regia E poi Fischiamo la via Continui petroli Gotria di Albaretto Benzina Metano Lavaggio Aperto Tutti i giorni Un pienone di metano Garanzia di aria pulita E tanti chilometri In più Conad Centro commerciale A Borgotaro Qualità Le offerte Che si ripetono Di settimana In settimana Il servizio Conad Il tuo supermercato Al centro commerciale Di Borgo Valditaro Macelleria Savani Flavio Di Germano La qualità più alta Delle carni Macellate in loco Le nostre carni Sulle tavole Di tutti noi Carni nostrane Certificate Carni italiane Macelleria Savani Flavio Di Germano Bottega del pane Di Binacchi Sandro E Stefania Il mangiare sano Comincia proprio dal pane Parti dalla bottega del pane Con le sue proposte Di diverse qualità di pane Torte salate Non E alta specialità Naturalmente In Viale della Libertà E in Viale Nazionale A Borgo Valditaro Cattolica assicurazione Di Chiodi Lidia Una polizza 360 gradi Come salvaguardare Ogni evenienza Consulenza gratuita Preventivi Gratis Naturalmente L'assicuratore Dalla tua parte La tranquillità A portata di mano Con una polizza Cattolica assicurazione Viale Bottego A Borgo Valditaro Centro Polivalente Atlantide A Bedonia In Largo Colombo Palestra Per rimanere in forma Tutto l'anno Camping Per il vostro relax In un ambiente unico Tennis Beach Volley E in estate Piscina Con feste Di tipologia varia Centro Atlantide A Bedonia Impresa Edile Nuziatine Figli Di Borgo Valditaro Opera da 30 anni Nel campo Della ristrutturazione E delle nuove costruzioni Questa sera propone in vendita Dei bellissimi appartamenti In classe energetica B Regolarmente certificati Uno o due stanze Da letto Bagno Soggiorno Cucina Al balcone La palazzina appena costruita Si trova in Borgotano E per informazioni Numero ufficio 0525 99 541 Ed ecco Tornata la palla al centro Allora adesso Incominciamo davvero Ad analizzare La prima categoria Dove vedo Bardi Batte Sant'Ilario 5 a 3 Biancazzura Contro lo Valtarese Ahimè sconfitta Per la squadra più blasonata Della montagna 1 a 2 Melletolese Fornovo 0 a 0 E ci spiegherà Villani Comandata Solignano Felino 1 a 1 E qui non c'è sette a commentare Faremo commentare a voi Partiamo subito Da voi che siete scusi Da questo campionato Ma magari il prossimo anno Ci sono derby nel derby Eccetera eccetera Ecco Come Un commento A questi risultati Che ho appena letto Sicuramente Il Bardi Vediamo la classifica Eccola là Sì Mi sta sorprendendo Sta facendo un ottimo campionato Per adesso Valtarese Sguora molto giovane Aspettavo Qualcosa Forse di più Comunque Sono ragazzi giovani Ma Comunque Hanno grande qualità Pornovo Non so Sentendo il mister Sentiremo dopo il mister Cosa Cosa ci dirà Del Fornovo Speriamo l'anno prossimo Deve se c'è anche noi Non si sa mai Bendane Guardando la classifica Il Bardi È un po' una sorpresa Ma una sorpresa Fino lì Perché Può contare Su un gruppo di giocatori Molto affiatati Con un pubblico Eccezionale Che sostiene la squadra In casa Moltissima E anche Sovente In trasferta La Valtarese Sì a qualche punto Me l'aspettavo in più Anch'io Però è una squadra Molto giovane Che ha subito Qualche infortunio Di troppo E quindi Quando c'è i giovani C'è anche il rischio Che a volte Certe partite Non riesci a portarli In fondo Vedi ieri Che fino a dieci minuti Dalla fine Vinceva 1-0 Poi Proprio un giocatore Giovane Appena entrato Si è fatto espellere Quindi l'allenatore Era in grosse difficoltà Il Il Solignano Ha avuto anche lui Notevoli infortuni Qualche assenza Importanti di troppo Però sicuramente Al completo Una delle squadre Più forti Per quanto riguarda L'amico Giorgio Ghilani Come ho detto prima Secondo me È un allenatore Che Diciamo Si è messo a disposizione Della società Perché gli hanno fatto Una squadra Come hanno potuto Senza grosse spese E lui L'ha allenata E la sta allenando In modo Secondo me Buono Ottimo direi Eh Giorgio Tu sei coinvolto Adesso Devo ringraziare L'amico Brindani Al di là Di quello Che lui dice Che sicuramente È una verità Non è Purtroppo Che adesso Nelle squadre Ci siano dei mezzi Per fare Gli squadroni Però Bisogna puntare Credo su quelli Che sono i ragazzi Del posto I giovani E noi abbiamo Fatto questo Abbiamo cambiato Praticamente Dieci Undicesimi Della squadra Dell'anno scorso E questo Ha inciso Molto su quelli Che è stato Il rendimento Sino a questo momento Però io lo dico Proprio pubblicamente Che ho trovato Un gruppo di ragazzi Straordinario Sotto l'aspetto Della serietà Dell'atteggiamento E mi ha fatto Tornare un po' La voglia di allenare Cosa che Alla mia Venera età Ormai Un pochino Venessemata Però Credetemi che Quando trovi Questi ragazzi Che hanno Questo entusiasmo Questa voglia Anche Dopo le sconfitte C'è soltanto La voglia Di rimboccarsi Le maniche ripartiranno Io ho la convinzione Anche se per adesso Siamo un po' Nelle zone Nelle ultime Dieci zone Avete fatto bene Abbiamo fatto bene Però Come si diceva Della Valterese Pecchiamo In certe situazioni Di ingenuità Che sono tipiche Dei giorni Però io ho visto Una crescita Che non mi aspettavo In un tempo Così breve Sono molto fiducioso Le altre squadre Che avete analizzato Al di là Forse Del Solignano Che sta un po' Deludendo La stessa Valterese Mi aspettavo Qualcosa di più Mentre il Bardi È forte di un gruppo Che ormai È cimentato Da 3-4 anni Quindi non è Proprio una vera sorpresa Conoscendo anche Alcuni giocatori Credo che Sia la conferma Di quando c'è Un buon Una buona organizzazione Un paese Che ti segue E soprattutto Un gruppo di ragazzi Che probabilmente Vanno d'accordo È facile fare Questi risultati E sarà Senz'altro Una delle squadre Che lotterà Nei primi posti Sentiamo il Bardi Guarda Dal mio punto di vista Si stiamo facendo Un campionato Sopra le righe Una sorpresa Anche un po' Per noi Qual è la vostra marcia In più? Perché ci deve essere Un segreto Il segreto È che è un gruppo Di ragazzi Giovani Più che altro Tutto il paese Che sono da 4-5 anni Che sono insieme Si divertono E fanno gruppo E sono ragazzi Che danno un'anima Quando vanno in campo Perché Hanno dimostrato Con la Valtarese L'hanno dimostrato Anche ieri Poi giocando Non una gran Bella partita Però alla fine Quando c'è stata Di difficoltà Hanno tirato fuori La grinta Abbiamo portata Che ha già risultato E come in tante altre occasioni E come l'anno scorso Per vincere il campionato Hanno dato il meglio Che potevano dare E con questi Questi qua Sono i valori Secondo me Che a livello Direttantistico Sono molto Sono i valori Che ci vogliono In un gruppo In una squadra Per fare un buon campionato Per fare un buon campionato Logicamente Adesso siamo lì Però la classifica È molto corta E è un attimo Che ci troviamo Nelle parti basse La classifica Adesso godiamoci il momento E poi vedremo Sicuramente Le altre squadre Io a Valterese Mi sarei aspettato Molto di più Perché visto Che hanno dei giovani Molto validi Anche se sono molto giovani Però Hanno una buona squadra Secondo me Poi hanno un giocatore In più Che secondo me Maori Che è una punta Di alto livello Che è uno dei pochi Non del posto Sì Come noi Abbiamo Fagiani Cavazzini I due Cavazzini Che vengono da via Poi c'è il Solignano Che secondo me Prendo i giocatori Uno a uno Secondo me Ha la squadra più forte Una delle più forti Del girone Però Ha un po' di panchina corta Secondo me Non ha Dei buoni sostituti E poi c'è Il Fornovo Che io non conosco Però Come ha descritto Mister Ghillani Sono molto giovani E sicuramente Vedendo gli ultimi risultati Se continuo così Secondo me Può raccogliere Di buoni frutti Perché quei giovani Col futuro È sempre Di buoni frutti Adesso passo la parola A mio collega Ma diciamo sicuramente Che questa classifica Come appunto detto prima Ci sorprende Nel senso che Noi comunque Partiamo E rimaniamo Con i piedi per terra Perché il nostro obiettivo Poi alla fine È salvarci Quindi Sono passate solo Poche giovanate Quindi Dobbiamo rimanere assolutamente Con i piedi per terra E effettivamente Li siamo Però sicuramente In questo mese e mezzo In cui abbiamo iniziato Appunto a giocare Ci siamo tolti Veramente Comunque Delle soddisfazioni La più bella Sicuramente È stata quella Di domenica scorsa Andare a vincere Al Bozzia Penso che sia Veramente Una pagina storica Per la nostra società Perché mai È successo E magari Non succederà Neanche più Quindi sicuramente Al di là di tutto Di come andrà Questa stagione Domenica Veramente è stata Un'emozione Penso indiscrevibile Per noi giocatori Per i tantissimi tifosi Che ci hanno seguito Per quanto riguarda Il campionato Appunto Premesso che Come ho detto prima Noi Il nostro obiettivo Rimane Quello della salvezza È un campionato Che come Come si vede Dalla classifica È molto livellato Forse direi Pericolosamente Nel senso che Basta veramente poco Sia per andare Nelle parti alte Della classifica Sia anche per andare In quelle basse Quindi Sono qui i campionati Dove Fino all'ultimo Sicuramente Ci sarà Da lottare Io penso Faccio il paragone Con la serie B Italiana Secondo me Più o meno È un campionato Di quel genere Dove fino alla fine Non sai Né chi va giù Né chi va su Quindi rimane Fino all'ultimo In ballo Ed è forse anche Anche bello Diciamo Magari per chi lo vive Un po' meno Nel senso che Si rimane sempre Con un po' Di suspense Però Per Diciamo Gli appassionati esterni È sicuramente Un bel campionato Le squadre che mi hanno Impressionato In questo inizio di stagione A me c'è stata sicuramente La Bianca Azzurra Che secondo me È un allenatore Preparatissimo Giovane Ma veramente Molto preparato E il Marzolara Che come Come organico A me veramente Ha impressionato Poi dopo Molte le dobbiamo Ancora incontrare Ho sentito parlare Molto bene Del Gattatico Quindi Quello lì Poi dopo Vedremo nel proseguo Sicuramente Il Solignano Come diceva Fabrizio Presi singolarmente Hanno dei giocatori Veramente molto forti E magari Alla distanza Verranno fuori Ecco Magari Adesso ci sono Un po' di difficoltà Poi Alla distanza Magari Le individualità Verranno fuori Il Foro Novo Come diceva Mister Ghillan Ha cambiato Dieci undicesimi Quindi Non posso esprimermi Perché L'ho incontrato L'anno scorso È praticamente Un'altra squadra Come diceva lui Quindi vedremo Quando Quando lo incontriamo E la Valtarese Sì Ha dei giovani Che secondo me Hanno Hanno delle prospettive Di crescita Veramente impressionanti Però Sono ancora giovani Quindi come tutti i giovani Peccano magari Di esperienza Quindi Fare un campionato Di vertice Solo con i giovani Secondo me Faranno fatica Comunque Poi dopo Si vedrà Ecco È il campionato È il campionato Che darà I resoconti Andiamo a Bedonia Andiamo a Bedonia Che si sono ripresi bene Per cui Sì Abbastanza Beh intanto Però adesso vi tocca commentare Quella categoria Poi arriviamo a voi Allora intanto Complimenti al Bardi Perché Secondo me È una squadra Che ha gettato Delle buonissime basi Già qualche anno fa Penso Che Per noi Essendo una squadra Rifondata Giovane Che si sta ricostruendo Sia Un ottimo esempio Da seguire Sono partiti A testa bassa Con Umiltà Qualche anno fa Dalla Dalla terza E Sono venuti su molto bene Quindi Tanto di cappello Puntando molto Sui Sui giovani Del posto Io Ogni tanto Seguo anche I settori Giovanili Dei più piccoli Hanno Un vivaio Molto Molto Di ottimo livello E Che coltivano Molto bene Quindi intanto Complimenti al Bardi Io vorrei Appunto Prenderlo Come Modello Per la nostra Crescita Il potenziale Ce l'abbiamo Visto che anche noi Puntiamo molto Sui giovani E giovani Del posto Abbiamo anche noi Un bacino Molto Ampio Quindi Bravi Per le altre squadre Della Valle Valtarese Fornovo Sono due squadre Giovani Per cui ci sta Che si paghino Degli errori Di gioventù Ci sono alti E bassi Quindi È facile Trovarsi un giorno Una giornata Nelle parti Basse Poi Abbiamo visto La classifica È molto Molto corta Per cui Secondo me Si può Si può Risalire Molto Molto Facilmente Non conosco Molto bene Il Solignano Però Tutti dicono Che ha ottimi giocatori Per cui Classifica corta Potrebbe fare Il gioco di Solignano Perché Con tre partite Vinte Magari Ecco che là Setti ci spera Sì Non sentiamo un po' Il tuo collega Io Volevo fare Anch'io I complimenti Al Bardi Non mi sarei mai Aspettato Questo Campionato Quindi Tanto Di cappello Hanno I ragazzi Comunque Come già detto Del posto Giovani Che hanno voglia Di far bene E lo dimostrano Tutte Le domeniche Quindi Complimenti La Valtarese Come già stato Come già stato detto Hanno ragazzi Molto giovani La maggior parte Hanno Hanno la mia età Quindi hanno 18 anni Che sono Terzaga Spagnoli Scottone Alzapiedi Del grosso Poi ci sono Alcuni Alcuni Si riprendano E facciano Comunque Un buon Campionato L'unica cosa Che posso Posso dire Che ci sarà Ad aspettare Perché comunque Con questi Ragazzi Un po' Giovani Bisogna Far solo Quello Secondo me Anche un altro Consiglio È Aggrapparsi Come già stato detto Nelle altre edizioni A Ghirardi E a Mori Che sono I giocatori Che secondo me In queste categorie Fanno comunque La differenza La prossima settimana Avendo il presidente Qui della Valtarese Finalmente Potrò chiedere a lui Quali sono Le sue aspettative Se per adesso È stata Solo sfortuna Perché quando i punteggi Sono così Risicati Perdi 1-0 Perdi 2-1 Può essere L'episodio A condizionare A mettere La fortuna O la sfortuna Al primo posto Per il risultato C'è poco da fare Per cui La Valtarese Rimane sempre Una grande protagonista Ma Scopriremo Insieme al presidente Che cosa Sta succedendo E adesso Palla alla regia Gioielleria Romano La gioielleria Romano In Bedogno Via Garibaldi È sinonimo Di qualità Esperienza E competenza E invita Tutta la clientela A visionare La vasta gamma Di articoli Concessionario Orologi Di Philip Watch Braille Gas Gues Festina Citizen Seiko La gioielleria Romano Vi propone I preziosi Ed esclusivi Gioielli Firmati BBG In occasioni Uniche E speciali Inoltre trovate Ampia scelta Di prodotti Fashion Fra i quali I famosi Bracciali In argento Componibili Firmati Firmati Con il primo Ciondolo In omaggio E gioielli Bronsway Strolli Gas Braille E italiani Naturalmente Gioielleria Romano L'uomo E la donna Sportiva Vestono Moretti Sport A Bedogna Tutte le marche Più prestigiose Al mondo Li trovi Da Moretti Sport La tua esigenza Sportiva È anche Un'esigenza Di vestire Elegante Nello sport Moretti Sport Supermercato Metà Via Europa 1 Bedogna Titolare Marco Mariani Uno dei fondatori Del consorzio Love Tareceno Io l'ho fatto Piante, fiori e sartoria In via Alcidele Gasperi 13 a Borgotaro Vi propone un vasto assortimento Di piante e fiori Possibilità Di addobbi floreali Cerimonie Sementi Con consegna anche a domicilio Consulenza per la cura delle piante Piante e fiori e sartoria Via Alcidele Gasperi A Borgotaro A numero 13 Aperto Anche tutti i giovedì E tutto il giorno Caseificio Borgotaro Il vero sapore di montagna Una cosa non deve mai mancare Sulle nostre tavole Il parmigiano reggiano E allora dove lo trovi? Caseificio sociale Borgotaro Località Ponte Scodelino Di Albareto Telefono 0525 96284 Punto Sport riprende Con qualche altro consiglio naturalmente Patenti di tutte le categorie Corsi CQC Corsi di recupero punti Di sbrigo di pratiche auto Passaggi di proprietà in 24 ore Allora avete scelto giusto Autoscuola Borgotarese Di Melei Stefano e Federica La trovi in via Montegrappa A Borgo Val di Taro Ricordo ancora una volta Autoscuola Borgotarese Di Melei Stefano e Federica ZM infissi Con i vari sgravi fiscali Ed è importante Telefonare a Zucconi Massimo Finstral Porte, finestre persiane in PVC Sede showroom a Borgo Val di Taro In piazza 11 febbraio 1 Con telefono 0525 96 627 Showroom a Bardi E produzione a Borgo Val di Taro In via Pieve Ricordo ancora una volta ZM infissi di Zucconi Massimo Centro edile Esattamente in via Pieve 4 bis A Borgo Val di Taro È un'indicazione utile Se dovete ristrutturare Oppure fare una vostra abitazione Di sana pianta Allora tutto per l'edilizia Lo trovate al centro edile Via Pieve 4 bis A Borgo Val di Taro È importante Centro edile Torniamo a noi Torniamo allo sport E torniamo al calcio Grande protagonista Abbiamo parlato Della roba i profumi all'inizio Queste ragazze Che continuano a vincere Due su tre È una grossa percentuale Per cui faccio i complimenti A tutta la palla canestro Valtarese Complimenti E complimenti anche ai ragazzi Perché hanno vinto anche loro Per cui con il Sant'Ilario 80 a 70 E tanto che ci sono Vi voglio dire che Questa trasmissione La vedete in replica Esattamente domani Dalle 17.30 in poi Nel settore sport Videotaro.it In qualsiasi occasione Dopo di noi Va in onda Atlas Un documentario unico Nel suo genere Prodotto da Jean-Louis Bazzani E le immagini Sono veramente Le migliori Del pianeta Per cui Non andate via Da RTA Ma restate lì Per vedere Questo grande documentario Siamo alla seconda categoria E allora Cervarese Calestanese 1 a 1 Audace Valgotra Il Valgotra Vediamo anche la classifica Vince 2 a 1 Borgotaro Lemignano Trionfo Del Borgotaro 3 a 1 Compiano Fulgor Fornovo 1 a 1 Ghiara Felegarese 1 a 2 Felegara Come vedete Emerge Sivizzano Real Valbaganza E Real Valbaganza Vince di stretta misura Ma quello che basta 1 a 0 Per cui Vediamo la classifica Che In questo momento A chi è in studio Come L'amico Brindani Davvero Lo fa Soghignare un po' Se possiamo usare questo termine Perché sono primi In classifica E allora No Comincia pure anche tu Non ha Beh E' veramente molto bello Vedere questa classifica Ma sappiamo Che comunque E' appena cominciato il campionato Non abbiamo ancora fatto niente Noi teniamo i piedi per terra Tutte le partite Cercheremo sempre di dare il massimo E L'obiettivo è migliorare La scorsa Allo scorso campionato Il gruppo Abbiamo un bellissimo gruppo Una squadra fantastica Siamo tutti i ragazzi di Borgotaro Tranne Il portiere e la punta E Sarebbe veramente bello Essere tutti i ragazzi di Borgotaro Riuscire Ad avere un bel risultato Per Borgotaro Come l'anno scorso Bardi Per esempio Sarebbe veramente Tanta roba Tra l'altro Voi c'è una cosa Che vi inorgogliate C'è sempre Anche se Così non la tirate quasi mai fuori E che da voi Ecco Tanto vediamo le immagini Potete commentarle Da voi è partito Un certo Marcello Gazzola Eh sì Sappiamo che è un giocatore Di serie A È partito dalla nostra squadra Dal Borgotaro Dalle giovanili Questo si fa sicuramente Onore Alla Borgotaro Calcio Comunque è un gran bel risultato Ecco Ecco Tanto potete commentare Cediamo magari il microfono A Brindani Piero Che lui conosce tutti Anche quello che succedeva Nel 1950 Lui lo sa Sono la memoria storica Del Borgotaro No a parte Sì Molto eclettico Che a me piace tantissimo È maturato un po' Perché prima se no Mi faceva diventare matto Adesso un pochino È migliorato Glielo dico tranquillamente Tanto glielo ho detto tante volte Per quanto riguarda La classifica Sono molto soddisfatto Mi brucia ancora La sconfitta in casa Col Calestano Sono sincero Ma Non posso pretendere Che tutte le partite Siamo al 100% Lì abbiamo imbrocato Una giornata storta Di tutti Di tutti Ripeto Di tutti I giocatori E quindi Ci può stare Ci può stare nel calcio Per quanto riguarda Il gruppo Il gruppo è fantastico Tutti di Borgotaro E i due pontremolesi Che abbiamo Sono L'abbiamo adottati Sono Cinque o sei anni Che giocano da noi Ci tengono moltissimo Moltissimo Forse In certe situazioni Più dei locali Per dire In certe situazioni Quindi Per me Li considero Borgotaresi Abbiamo dato la città di Lanza Sonoraria Per quanto riguarda Il campionato Il Salavaganza Mi fa paura Perché è composto Da giocatori Che vengono da categorie Superiore E grossi esperienze Hanno preso solo un gol E questo è Molto importante È una cosa Una cosa da non sottovalutare E hanno segnato Due gol Meno di noi Noi siamo Il miglior attacco Però Domenica abbiamo Il big match A Salavaganza E dopo averla vista Le valutazioni Saranno un po' più Precise Un po' più Mirate Comunque Complimenti Ai miei ragazzi E qui Avete visto Un altro gol Vai Giorgio Io innanzitutto Oltre ai complimenti A Brindani Volevo farli Anche in diretta All'amico Cattani Che sicuramente Ha messo Un tanto del suo Perché io Questa squadra L'ho vista l'anno scorso Contro di noi E mi era piaciuta Già da allora Perché è una squadra Molto quadrata E sapevo Di tante assenze Che purtroppo Hanno condizionato Il loro campionato Ed era per me Una delle squadre Diciamo più toste Da incontrare Addirittura Borgotaro Con tanta fortuna Impattammo Ma meritavamo Decisamente Di perdere E Senz'altro Ripeto Il carattere Di 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 Alberto Ha inciso Per fare un salto Di qualità I giocatori ci sono Un dirigente Come Brindani Ce l'hanno in pochi Perché Sa veramente Mettere a suo agio E questo lo dice Lo stesso Alberto I giocatori E L'allenatore Quindi credo Che gli ingredienti Ci siano tutti C'è Un pubblico Che senz'altro Pian piano Aumenterà Perché seguono Spesso Volentieri Chi vince Non ho dubbi Che in fondo Ci arrivano Però È altrettanto vero Quello che dice Il Piero Che Anche il Serra Baganza Ha un'ottima squadra Una squadra Che è stata costruita Per vincere E Lì farà la differenza Molto probabilmente Proprio a livello Di gruppo Quello che riuscirà Ad essere Più Avere più fame Ad essere più amalgamato Su questo Forse punterà Un po' più Sul Borgotaro Sulle qualità tecniche Del Real Non si discute È una squadra Con giocatori Insomma Di esperienze Anche Però In questo momento Il Borgotaro Credo che Possa benissimo Giocarsela Sino in fondo E anche Perché no Glielo auguro Di vincere Questo campionato Giorgio Una domanda tecnica Che esula Da questo punteggio Da questa partita Che stiamo Vedendo Direi decisamente Che tante occasioni Per cui Avete dominato A vedere le immagini Avete veramente dominato È questa Che tipo di squadra Per te È più difficile Affrontare Cioè Una squadra Veloce Una squadra Tecnica Una squadra Che so io Che non lascia spazi Qual è il gioco Che tu affronti meglio O quello che affronti Malvolentieri Ma guarda Che negli anni Quello che mi ha sempre Più creato difficoltà Nel calcio E che io la ritengo Una delle cose più belle A avercelere la velocità Quando tu incontri I giocatori rapidi E veloci Ti creano sempre Difficoltà Creano spesso Volentieri La sua priorità numerica Tu sei sempre In affanno Per cui È sempre difficile Affrontare queste squadre Però quando Al contrario Una squadra Anche Anche Tecnica Però Non mette Quella cattiveria Parlo di cattiveria Sportiva In campo A volte È anche facile È più facile Incontrarla Però La determinazione Faccio l'esempio Che ho fatto prima Dell'anno scorso La mia squadra Era decisamente Più tecnica Però non aveva fame Era solo Fatta di Buoni giocatori Venimmo a Borgotaro Contra una squadra Che sembrava Indemoniata E questo Ti crea difficoltà Perché Tu ci vai molle Ci vai convinto Perché ti senti buono E il buono Lo vedi quando finita la partita Non quando comincia E questo È quello che crea La determinazione Nelle squadre O poi io Fosse sempre amato Far giocare Provare A far giocare I miei giocatori Sul pressing Sulla Sulla Chiamiamolo Cattivaria Sempre sportiva Nel senso di attaccare Di non far giocare Le squadre avversarie Però A volte ci riesci bene A volte invece È più difficile Ecco Perciò Saltare l'uomo È sempre una delle cose Insomma Quando tu hai un giocatore Che quando ti affronta Ti salta Giochi sempre Con uno in più E questo È quello che fa La differenza In tanti In tanti In tanti Incontri Quindi Se io trovo Di giocatori veloci Insomma Non so Non so mai Da dove mettermi Da dove si Così Come affrontarle Come la doppia Ci sono Ci sono Delle 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 Oggettive Quando c'è Uno veloce O ce l'hai Anche tu bravo O altrimenti Soffri Soffri Tutta la partita Sentiamo Bardi La voce Degli amici di Bardi Come vedono Questo campionato Intanto complimenti Al Borgotaro Che sta facendo Un gran campionato E gli auguro Proprio Che vinca Questo campionato Perché secondo me Se lo meritano Dal mio punto di vista Secondo me Sono una squadra Un po' come noi Che Danno l'anima Quando vanno in campo Hanno un gruppo Affiattato di ragazzi Soprattutto su tutti Di Borgotaro E secondo me Hanno anche Una squadra Molto ben attrezzata Perché abbiamo I contratti Inamichevole E A me ha fatto Una bella impressione Pur che Con noi Hanno giocato Senza la punta Bongi Secondo me È un giocatore Molto valido Però hanno Dei giocatori Tipo Scarpetti Lombardi Molto bravi Che per la tua categoria Secondo me Sono Diciamo che Sono un lusso Secondo me Se la giocano Corrierea Val Baganza Perché è una squadra Che ha giocatori Di categoria superiore Però Loro hanno il gruppo E secondo me Faranno Tanta strada E mi auguro Di trovarli in prima categoria Il prossimo anno Con noi Proprio Spero proprio Perché se lo meritano No anche perché Sai perché spero La Val Tarese L'abbiamo battuta Facciamo fuori Anche il Borgotello Non so No Vabbè Che c'è la rivalità Quello si sa Però siamo sempre Tutti amici Con il Fornove C'è rivalità No Sì L'anno scorso C'era molta rivalità Però Alla fine Dopo a fine partita Tutti amici Ed è finita lì Vabbè C'è qualche Schrezia Però Alla fine Collaboriamo tutti Noi con La Val Tarese Abbiamo una collaborazione Che va avanti Da anni I nostri ragazzi Tanti sono cresciuti Nella Val Tarese E dunque Noi abbiamo sempre Avuto un buon rapporto Sia con Marco Del Nevo Che con Gianmarco Bozzia E anche con La vecchia dirigenza Di Turto E Tamburini Io ho pur fatto Un anno Nella torre Con Brugnoli Avevo Sauro Mi ha sempre fatto Piacere Ok Anch'io faccio i complimenti Alla Borgotano E spero veramente Che Possano Possano essere promossi Si possano Possano fare gli scongiuri I nostri amici Qui davanti Però veramente Per me Sono Per il bar Io sono sempre stata Comunque una società amica Sia io Che i miei fratelli Ci abbiamo giocato Quindi per noi Sono veramente Degli amici E quindi Spero veramente Con tutto il cuore Di poterli incontrare In prima categoria Del prossimo anno Sia perché Loro Vanno su Sia perché Noi ci salviamo Diciamo C'è il doppio Il doppio senso Di questa cosa E Come diceva Fabrizio Li abbiamo incontrati Ad agosto E veramente Ci hanno impressionato In quella partita Lì sembravano Veramente loro La squadra di prima Categoria Perché giocavano Proprio a due tocchi E veramente Mi hanno Proprio impressionato Evidentemente Hanno un allenatore Molto preparato E Tra l'altro Il nostro allenatore Grillo Ha fatto il corso Con lui E proprio lui Ha detto che Ne ha parlato molto bene Di questo Di questo mister Ha detto che È molto preparato Quindi veramente Complimenti anche Alla società Perché evidentemente Ha scelto Ha scelto La persona giusta Ecco Quindi Complimenti a loro E speriamo che Continuino In questo In questo percorso Sicuramente Da come dicono Gli esperti Diciamo Del settore Il Real Sala Una squadra Effettivamente Che ha nomi Sono Sembrano Veramente forti Però Comunque Alla fine Come abbiamo detto Prima Come ha detto Giorgio Non si vincono Le partite con i nomi Ma si vince col Giorgio E poi Probabilmente Lui parla un po' Anche per esperienza Visto Appunto Come ha detto Dal No Nel senso Che l'anno scorso Effettivamente Probabilmente A nomi Il Foranove Era più forte Del Bardi Però Cioè Noi Probabilmente Se uno ci mette La grinta L'agonismo E La fame Come diceva proprio Mister Ghillani In queste categorie Fa la differenza Ecco Sicuramente Quindi Speriamo che il Borgotaro Abbi più fama Del Real Sala Però Sentiamo invece Gli amici di Bedonia Lui è un goleador Che ha di fama ormai Ne voglia No Mi fa piacere Vedere il Borgotaro Lassù in alto Anche perché Conosco Qualche Valido giocatore Cominciare da Sauro E Spero che Continuino così Già Già mi avevano Ben impressionato Nell'amichevole Precampionato Ad agosto Si erano Già fatti trovare In una condizione fisica Atletica Molto Valida Mi avevano impressionato Come gioco In attacco Spingono davvero tanto E lo stanno dimostrando Con i numeri Forza Continuate così Poi Io sono amante Delle squadre Che puntano Sui giovani Del posto E non Su aggregati Di giocatori Fenomeni Amalgamati A forza Quindi Forza Continuate così Io sono molto felice Che il Borgotaro Si è in alto In classifica Siccome Ho giocato Per 4-5 anni Alla Borgotaro Ci siamo anche Tolti Delle soddisfazioni Vincendo due campionati Quindi Sono molto felice Per questa classifica Ho un sacco Di amici Che giocano Alla Borgotaro E anche Ex compagni Ex compagni Di squadra Quindi io faccio Il mio più grosso In bocca al lupo Alla Borgotaro E forza Borgo Fermiamo un attimo Continui patroli Gotria di Albaretto Benzina Metano Lavaggio Aperto tutti i giorni Un pieno di metano Garanzia di aria pulita E tanti chilometri In più Conad Centro commerciale A Borgotaro Qualità Le offerte Che si ripetono Di settimana in settimana Il servizio Conad Il tuo supermercato Al centro commerciale Di Borgo Val di Tar Macelleria Savani Flavio Di Germano La qualità più alta Delle carni Macellate in loco Le nostre carni Sulle tavole Di tutti noi Carni nostrane Certificate Carni italiane Macelleria Savani Flavio Di Germano Bottega del pane Di Binacchi Sandro e Stefania Il mangiare sano Comincia proprio dal pane Parti Dalla bottega del pane Con le sue proposte Di diverse qualità Di pane Torte salate E non E alta specialità Naturalmente In Viale della Libertà E in Viale Nazionale A Borgo Val di Tar Cattolica assicurazione Di Chiodi Lidia Una polizza 360 gradi Come salvaguardare Ogni evenienza Consulenza gratuita Preventivi gratis Naturalmente L'assicuratore Dalla tua parte La tranquillità A portata di mano Con una polizza Cattolica assicurazione Viale Bottego A Borgo Val di Tar Centro Polivalente Atlantite A Bedonia In Largo Colombo Palestra Per rimanere in forma Tutto l'anno Camping Per il vostro relax In un ambiente unico Tennis Beach Volley E in estate Piscina Con feste di tipologia varia Centro Atlantite A Bedonia Impresa Edile Nuziatine Fili Di Borgo Val di Tar Opera da 30 anni Nel campo della ristrutturazione E delle nuove costruzioni Questa sera propone In vendita Dei bellissimi appartamenti In classe energetica B Regolarmente certificati Uno o due stanze Da letto Bagno Soggiorno Cucina La palazzina appena costruita Si trova in Borgotaro E per informazioni Numero ufficio 0525 99 541 Allora velocemente ringraziamo ancora i nostri amici del Centro Edile Via Pieve 4 Bis a Borgo Al di Tar Tutto per le edilizie Cemento Mattoni Pitture Pallets E Legnami Centro Edile Una garanzia ZM infissi Sempre zona centro edile Fistral Porte, finestre Persiane Per sapere di più Naturalmente basta telefonare A Zucconi Massimo E lo trovate Anche a Bardi Patenti di tutte le categorie Corsi CQC Corsi di recupero Punti Disbrigo di pratica automobilistica Passaggio di proprietà In 24 ore E allora non può essere Che la tua scuola Borgotarese Di Mela e Stefano e Federica In via Montegrappa A Borgo Val di Tar Domanda difficilissima Per modo di dire Ma facile per voi Che siete nel calcio Il campionato è appena partito Si può dire un mese Un mese e mezzo Però già vi siete fatto un'idea Di chi avete incontrato Di chi incontrerete Avete già individuato qualche giocatore O più di un giocatore Che può aspirare ampiamente A fare categorie superiori? Delle squadre che mi hanno affrontato Fino adesso Direi Mi ha fatto una buonissima impressione Olari Della Calistanese Ottimo attaccante Forte di testa Giovane Ma comunque di esperienza Diciamo che Delle squadre che mi hanno visto adesso È quello che mi ha impressionato di più Bredani Di quelli visti Sicuramente quello che ha fatto meglio Soprattutto contro di noi È Olari E poi c'è qualche altro giocatore Che quando abbiamo incontrato Il Ghiara Ad esempio Mancava Fran Zè Che per me è un giocatore Sprecato in categorie È un giocatore Minimo da promozione Ha qualche problema di allenamento Ma è un giocatore eccezionale Giorgio per te Particolarmente Delle avversarie Non ho avuto Diciamo così Nessuno Che mi abbia impressionato E che possa ambire Certo una promozione La possono fare in tanti Ma di avere qualità Per andare oltre No Devo menzionare invece Un nostro giocatore Che secondo me Io non lo conoscevo In tutta onestà Bernardini È un centrocampista Ex crociati Giovanni di Delle Spalle È un ragazzo Di una serietà esemplare È un ragazzo Che sicuramente Ha doti Per giocare anche Come del resto Ha già provato a giocare Nei crociati Quando era giovane È un giocatore Che ha grande qualità Questo sicuramente Adesso vedremo In questi prossimi incontri Se c'è qualcuno Ma per adesso Ripeto Non mi sento Di menzionare nessuno Facciamo gli amici di Bardi Ma secondo me Due giocatori Di categoria superiore C'è il Solignano Che sono Mauro Garcia E David Perché sono due Signori giocatori Che secondo me Possono fare la differenza In questa categoria E posso giocare la promozione Un altro Secondo me Giocatore Che può giocare In categoria superiore Che abbiamo Secondo me Abbiamo noi A Pontremoli Un attaccante Perché fa pochi gol Però fa Un attaccante Che fa reparto Da solo Di altri Mori Potrei dire Da Valtarese Che conosco Anche se con noi Non ha giocato Una gran partita Però è sempre Secondo me Giocatore In categoria superiore Secondo me Il giocatore Veramente Che mi ha impressionato Tantissimo Che tra l'altro Domenica scorsa Non era presente Nel derby Appunto con la Valtarese Ma l'abbiamo affrontato In Coppa È Gerardi Il difensore centrale È veramente Secondo me Un difensore Veramente forte Tra l'altro Pulito Fisicamente Ben messo E secondo me Lui Può veramente Puntare A categorie superiori Tra l'altro In estate C'erano appunto Voci Almeno ho sentito Che è stato accostato A squadre Anche Diciamo Di eccellenza E poi Rimanendo Diciamo Al Bar Anche noi Secondo me Abbiamo senza fare nomi Però due o tre giocatori Tra l'altro Molto giovani Che Sicuramente Potrebbero Potenzialmente Giocare Quanto meno In promozione Sicuramente Il fatto Poi dopo Loro hanno fatto Una scelta di vita Di giocare Per i propri colori Per il proprio paese E questo Gli fa onore Nel senso che Poi alla fine Diciamo Tra la prima La promozione Poi Diciamo Cambia poco Forse Conta di più Giocare Con i propri amici Per il proprio paese Però Secondo me Ci sono dei giocatori Anche nel Bardi Che Farebbero comodo A tante società Ecco Molto forte Molto forte Secondo me Poi Vabbè Maccini Della Varanese Che ha una tecnica Un gioco In mezzo al campo Di un'altra categoria E poi Direi che Nella nostra squadra Abbiamo dei giovani Con un potenziale Molto elevato Che Sicuramente Possono fare bene E Possono già giocare In categorie superiori Io spero che Magari lo facciano Rimanendo Nella Bedognese Io Come ho detto a Giampaolo C'è stato I battici Camera E comunque Anche Ruffini Secondo me Sono anche Signori giocatori Anche Sono un po' Forse Un po' avanti Con l'età Però Oltre Non è che Abbia visto Questo Questo Gran Questo Questo gran Non lo so Non ha visto nulla Di emergenza Sì Forse Negli altre categorie Come ho già detto Forse Dirò perché sono miei amici Ma secondo me Nella Valtarese Spagnoli Terzaga E anche Scotton Possono ambire A giocare In categoria Superiore Bene Ricordo che Dopo di noi Va Atlas Documentario Che va sempre Dopo Punto Sport Tra le immagini Più suggestive Del pianeta A cura Di Gianlui Bazzani Che ci sta Mandando in onda Per il servizio Grazie all'amico Bernie Stefano Che va in giro A riprendere Le varie partite Chissà dove sarà Domenica Questo non lo so Adesso vi do Sicuramente Vi diamo un po' Di consigli seri Importanti Poi torniamo A Ras Finale Gioelleria Romano La gioiella Romano In Bedogno Via Garibaldi È sinonimo Di qualità Esperienza E competenza E invita Tutta la clientela A visionare La vasta gamma Di articoli Concessionario Orologi Di Philip Watch Braille Guess Festina Citizen Seiko La gioiella Romano Vi propone I preziosi Ed esclusivi Gioielli Firmati BBG In occasioni Uniche E speciali Inoltre Trovate Ampia scelta Di prodotti Fashion Fra i quali I famosi bracciali In argento Componibili Firmati Charmaine Con il primo Ciondolo In omaggio E gioielli Brossway Strolli Guess Braille E Ottaviani Naturalmente Gioielleria Romano L'uomo E la donna Sportiva Vestono Moretti Sport A Bedogna Tutte le marche Più prestigiose Al mondo Li trovi Da Moretti Sport La tua esigenza Sportiva E anche un'esigenza Di vestire Elegante Nello sport Moretti Sport Supermercato Metà Via Europa 1 Bedogna Titolare Marco Mariani Uno dei fondatori Del consorzio Love Tareceno Io l'ho fatto Piante e fiori Piante e sartoria In via Cidere Gasperi 13 a Borgotaro Vi propone Un vasto assortimento Di piante e fiori Possibilità Di addobbi floreali Cerimonie Sementi Con consegna Anche a domicilio Consulenza Per la cura Delle piante Piante e fiore Sartoria Via Cidere Gasperi A Borgotaro Numero 13 Aperto Anche tutti i giovedì E tutto il giorno Caseificio Borgotaro Il vero sapore di montagna Una cosa Non deve mai mancare Sulle nostre tavole Il parmigiano reggiano E allora dove lo trovi? Caseificio sociale Borgotaro Località Ponte Scodellino Di Albareto Telefono 0525 96284 Ringraziamento in diretta Particolare al Centro Edile Tutto per l'edilizia Cemento, mattoni, pittura Palez A Borgotaro Via Pieve 4 bis All'autoscuola Borgotarese Di Mellai Stefano E Federica In Via della Montegrappa A ZM Infissi Di Zucconi Massimo Che trovate A Borgotaro In ben due indirizzi Definiti Via Pieve E naturalmente In via 11 febbraio 1 A Borgotaro E a Bardi E naturalmente In mobiliare Valtaro Dell'amico Gianmarco Che da lunedì Sarà uno dei grandi Protagonisti Per quanto riguarda I nostri Inserzionisti Immobiliare Valtaro E adesso Rush finale Veramente gustoso Perché Andiamo in terza Categoria E qui Salutiamo il mister Del Varano Che era ospite Qui Nella puntata precedente Che temeva molto Il Mercut Il Mercut Invece ne ha fatto Un sol boccone 3 a 1 Sala Vaganza Bedognese 2 a 1 Un pochettino Così poi Vi chiederò Perché Virtus Parma Berceto Terre Alte L'amico Giovanni Spunta il pareggio Vediamo anche La classifica Il Bedogna Comunque A 9 punti Un po' di distacco C'è Sissa Sissa Copp Nord Est Mercuri Che temeva tantissimo Temevano tantissimo Gli amici del Varano Invece L'hanno bloccata E come E Varano Con due Partiti in meno È lì Ha due partiti in meno Varanese Allora Chi vuole partire A commentare Facciamo partire Da loro Che sono Parte in causa E come mai Questa caduta Dopo Che Insomma Ultimamente Andavate abbastanza bene No Stavamo andando Abbastanza bene Forse Abbiamo Abbiamo preso Sottogamba Sottogamba La partita Io Mi sento di dire Che forse Un pareggio Ci stava tutto Ma Il calcio Il calcio è strano È andato così Speriamo Adesso Noi abbiamo Stiamo Pensiamo già A domenica prossima Che affronteremo La Virtus E cercheremo Comunque Di dare il massimo E di portare a casa La vittoria Soprattutto Per il nostro La partita Che Veramente Avete giocato In un modo Che Se doveste Rigiocarla Non la fareste Mai più così È questa Oppure Ce n'è stata un'altra No Secondo me Se La partita Forse Che mi è rimasta Più Nel Gozzo Sul Gozzo È stata contro La Felegarese Quella di terza Che è stata un po' Una partita Roccambolesca Che Spero A ritorno In casa nostra Di Tra virgolette Di prendermi Qualche rivincita Così come Alcune partite Ma quella In particolare Ma è stata Sul Gozzo Come ha detto lei Bene Sentiamo Un'altra voce Di Bedogno O moglie Sì Dunque Vedendo la classifica Vedo molto bene Il Sissa Tra l'altro Ha giocato Contro delle squadre Già di vertice Ha battuto Il Mercuri Vedo bene La Varanese Come Già dimostrato L'anno scorso Ha battuto Hanno battuto Anche loro Il Mercuri E Hanno due partite In meno Tra cui Quella contro I Crociati Noceto Che Essendo stata Creata In Corsa Forse Ancora Qualche Non è Non ha Una rosa Al completo E Comunque Sì Resta Il Mercuri Una Vedendo Dei risultati Resta Una Delle Delle Favorite Per quanto Riguarda Invece La nostra Classifica Secondo me Ripeto Essendo una squadra Di giovani Abbiamo degli Alti e bassi Non abbiamo Fino ad ora Avuto Mezze misure E comunque Le partite Che abbiamo Perso Al di là Della Fellegarese Che abbiamo Giocato in Dieci Per Tre quarti Della partita E Stavamo rischiando La rimonta Eravamo Sul 4-3 Potevamo chiudere Con più di un'occasione Il 4-4 In dieci Abbiamo sempre Perso Con un gol Regalato Da disattenzioni Sì Quindi Più che altro Li abbiamo Più che Più che vinte Gli avversari Li abbiamo Perse noi Regalate Esatto Poi siamo stati Anche un po' Sfortunati Perché Abbiamo avuto Una serie Di infortuni Soprattutto Nel reparto Offensivo Domenica Abbiamo terminato La partita Senza Attaccanti In campo Quindi Un po' Anche la sfortuna L'inesperienza Ci hanno giocato Un po' Contro Secondo me Il nostro potenziale Deve ancora Esprimersi Abbiamo Bisogno Un po' Più di tempo Per Amalgamarci Meglio Serve L'impegno Di tutti Abbiamo Dalla nostra Un pubblico Che è tornato Allo stadio È tornato Al Gandhi Numeroso Anche due domeniche fa Sotto la pioggia Battente Avevamo Una tribuna Gremita Piena di ombrelli E soprattutto La cosa più bella Avere Dei bambini Dei ragazzini Che vengono Alla partita Per vedere La prima squadra Col sogno Magari In futuro Di Di Eserci Esatto Quindi Colgo anche L'occasione Per salutare Tutti i settori Giovanili Di Bedonia Che continuino Ad impegnarsi Così E di continuare A supportare La prima squadra Perché a noi Fa davvero Piacere Soprattutto C'è un Ragazzino Che viene sempre Jacopo E Jacopo Che saluto In particolare C'è da Sentiamo il microfono Al Bardi In questo caso Domande diverse Perché giustamente Voi vedete un campionato Diverso Il vostro è diverso Da loro La domanda Che vi faccio È questo Tu mi dicevi Che volevi dire qualcosa Per cui È inerente Un qualcosa Che magari Non ti chiedevo Ma che giustamente Devi dire Ma quanto è importante Il calcio In una Valceno Dove voi siete La capitale? Penso sicuramente Che sia Importantissima Nel senso che Sono Da noi Purtroppo Diciamo che Le possibilità Di divertimento Per i giovani Sono Sono veramente Poche E Penso che Il fatto che Anche alla domenica I nostri come a Bedonia Anche a Bardi Lo stadio sia pieno È proprio Per questo Nel senso che Comunque Probabilmente Le possibilità Di divertimento Non sono tantissime Poi il fatto che Comunque Ci siano tanti giovani Del posto Che giocano Per il paese Sia sicuramente Un motivo Per andare A vedere Le partite Ecco Ci sentiamo Un po' Tutti come Tra virgolette Una grande famiglia Nel senso che Andiamo a rappresentare Comunque Il nostro paese In giro per la provincia Adesso in prima categoria Anche in altre province Quindi Sicuramente Per diciamo Noi Tra virgolette Montanari Detto in senso buono In senso Molto orgoglioso Che C'è anche le terre alte Molto spesso Diciamo Ci Siamo un po' Messi Messi da parte Diciamo Dalla città Col calcio Secondo me Ci siamo presi Delle grosse Delle grosse rivincite Ecco Quindi Quello penso Che sia un motivo D'orgoglio Per tutto Per tutto il paese Come diceva lei Volevo un attimo Soffermarmi Sul nostro Settore giovanile Che io appunto Ho la fortuna Di allenare Una squadra Di bambini E questo Penso che Veramente sia Per me Una grossissima fortuna Nel senso che Penso che Mi danno più l'oro A me Di quello che do io a loro E proprio Veramente Non pensavo Di Di ottenere questo Da dei bambini Ci stiamo togliendo Veramente Delle soddisfazioni Impensabili Quando siamo partiti Quest'anno Abbiamo giocato Cinque partite Le abbiamo vinte Tutte cinque Anche Appunto Sabato Abbiamo battuto All'Audace Che è un settore Giovanile Importantissimo Di Parma E quindi Anche questo Penso che Appunto Per Bardi Sia comunque Un motivo D'orgoglio E ci tenevo Un attimo A ringraziare Oltre a tutti I genitori Che sono fondamentali Nel senso che Se non c'è L'impegno Dei genitori Che portano i bambini Agli allenamenti Alle partite Non si sarebbe Riuscito Sicuramente A costruire Niente Volevo ringraziare Appunto Il mio aiuto Allenatore Elia Marzani Il preparatore Dei portieri Che è giovanissimo Ma è preparatissimo È Geremia Rossi Il factotum Diciamo Del Bardi Che è Marco Poggi Che è una pedina Fondamentale Tra l'altro Anche per La vostra Emittente Perché Dà una mano Alla vostra Redazione Sportiva Con i risultati Puntualissimo Ogni domenica E i dirigenti Che sono Castor Raul Luigi Carpanini E Boccaccio Antonio Bello perché abbiamo salutato Tutti Abbiamo salutato Quasi tutto Sette anni fa Andando a raccogliere Tutti i giocatori Che avevamo Nelle varie società Più blasonate di noi A Fornovo Alla Valtarese E Uno A Medesano Che era Con mister Ghilani Che è Massimo Losa E Poi c'era il portiere Lorenzo Bosi Che era anche lui A volta Suo a Fornovo In promozione Questi ragazzi qua Hanno deciso tutti Di tornare a Bardi E di formare un gruppo Per Per giocare Nel loro paese E bisogna dare atto Che Bisogna dare Cioè Per fare i complimenti A questi ragazzi Perché Calarsi Della promozione Prima categoria In terza categoria Non è semplice Non è da tutti Hanno formato un gruppo E Adesso sono andati in prima Si stanno scavando Molte soddisfazioni Che secondo me Davanti agli occhi Di tutta la provincia Di Parma Anche Pur che siamo un paese Che abbiamo pochi giovani Perché il settore giovanile Per adesso abbiamo Sulla squadra del 2008 E alcuni ragazzini Giocano a Valtarese Al Bedogna Intanto faccio complimenti Al Bedogna Per il settore giovanile Perché Stavo lavorando molto bene E In questi paesi Come Bardi Non è facile Far calcio Purtroppo E noi Per adesso Ci stiamo riuscendo Non so ancora Per quanti anni Spero per tanti anni E Penso di Possiamo tirarsi via Ancora tante soddisfazioni Bene grazie Giorgio Te ho una domanda Che a me piace Farla Questa domanda Che è questa Ci conosciamo Da tanto tempo E Io mi ricordo di te Come giocatore Eri Estremamente raffinato Hai delle memorie Eh beh certo Eri uno di quelli Che in campo Ci sapeva stare E allora ti faccio Questa domanda L'ho fatto anche All'amico Che ringrazio Fabio Borzoni Aldo Fabio Il secolo Perché bisogna stare Molto attenti Borzoni Che ha giocato Naturalmente In svariate società Importanti A livello nazionale La stessa domanda La voglio fare Come è cambiato Questo calcio Tu hai vissuto Un calcio Che adesso Non è più così Ecco Qual è la parte Di questo calcio Che veramente Non esiste più Oppure quella Che è stata più Tenuta Però modificata Ma credo Che sia andata Di pari passo Con la nostra società Io Mi ritrovo Purtroppo Purtroppo Dico Un po' in difficoltà Nel vedere Nei paesi Nelle Nelle città Forse già da tanto tempo Ma noi Dove Abbiamo vissuto Tutti questi anni A venire a mancare Proprio quelli che erano I valori I veri valori Dell'amicizia Del divertimento Adesso È cambiato un po' tutto E il calcio Ne ha subito Secondo me Un'evoluzione Notevolissima Io Prima Poc'anzi Dissi che Avevo perso E ho perso Un po' la voglia Di fare anche questo lavoro Anche se è una mia passione Da 25 anni Perché l'hai persa Perché I giovani che vengono Ad allenarsi Non le frega Praticamente niente Loro Vinci Perdi Non ci interessa Ma domani perché vengono È questo che gli chiedo Infatti non siete obbligati a venire Se venite Dovete venire con quello che è Un impegno che avete preso Con una passione che dovete avere Diversamente non serve venire qui Solo perché lo fanno tutti Ed è una grande maggioranza Forse qualcuno mi può trasmentire Però L'amico Brindani Ha vissuto gli stessi anni Che abbiamo vissuto noi Noi si andava a giocare A giocare con una passione Che era incredibile Io alla sera avevo mia nonna Con il grasso per le scarpette Per lucidarle Adesso arrivano Con il salmica le scarpette Ah mister io non ho mica portate Ma dove vai? Cioè È una cosa che è indecente E allora Onestamente Non è così facile Giovanni Fare Lo sport dove tu ci metti ancora l'anima E questi Molto probabilmente Non hanno Non hanno questa Ci sono troppe Troppe cose Che possono distrarre Adesso sono interessate Tantissime altre cose Vengono tutti Vai a cena Che poi non vengono Anche più a cena Una volta l'aggregazione Nel dopo Partito Era la cosa più bella Che c'era Adesso arriviamo Con indiesi Con undici macchine E tutti Per una parte Dell'altra Quando riesci a metterli a tavola In dieci col telefonino A messaggiare Cioè purtroppo è cambiato E per chi ha fatto come noi Il calcio Che era proprio fatto Del calcio della strada Dove appena avevi un minuto Correvi a giocare In mezzo all'asfalto Fango Non fango Allenamenti Era assolutamente Una cosa Diversa Ecco perché Questa evoluzione La trovo Una cosa Dico proprio Negativo In tutti i sensi Anche se poi Dopo C'è anche quello Che c'è ancora La voglia C'è ancora La passione Però è una cosa Molto Molto Più rara Molto più rara Profitto un attimo Il microfono Per fare i complimenti Proprio A questi ragazzi A Bedonia Perché avendo vissuto Gli anni proprio Io sono stato Tre anni a Borgotaro D'allenatore Però ho vissuto Tante partite Invece da giocatore Polesine Fornovo Tante società Dove Incontravo Il Bedonia Ed era sempre Una trasferta Di quelle Infuocate Proibitive Il mitico Presidente Gandhi Che effettivamente Lo ricordo ancora Come se fosse adesso Nell'ultime partite Con la giacca sudata Addirittura Perché teneva la giacca In panchina E c'era l'alone Del sudore della giacca E questo era il vero calcio Il vero calcio Esatto Quello di questi ragazzi È un diversivo Però È amara la cosa Molto Ma Quello che succede a loro Parlo di Bardi È ancora una cosa bellissima Perché Ha detto giustamente C'è poco Diversivo Nel senso Il divertimento È racchiuso lì Nel paesino Quando mai Ci si conosce Si può fare una partita Che ne so A carte Dubito anche quello Però Dopo Qual è l'obiettivo È trovarsi la domenica E avere Quello spirito Di rivarsene Confronti Anche degli altri Perché giustamente Io adesso Mi sento un po' In difficoltà Perché tutti i miei clienti Da commerciante Ho la zona di Bardi E devo andare Tutte le mattine Dei miei agricoltori Che sono in questa zona E tutte le mattine Ci ho degli sfottò Mi chiamano I vari Marenghi Pascal Al mattino Quando vincono Mi chiamano E adesso Devo assolutamente Andarci un po' più vicino Perché Non ci sto Devi accorciare il gatto Sì Non ci sto L'anno scorso Mi hanno strapazzato Quest'anno Ci stanno provando ancora Però prometto Però basta ragazzi Sì Ormai basta Prometto che Che non mollo Anche perché È l'ultima cosa Che sono abituato a fare Comunque complimenti A voi complimenti A questi ragazzi Bedogna Mancava in questo Scenario Diciamo Della montagna E Li faccio veramente In bocca al lupo Che possono ritornare Come ai vecchi tempi Ai vecchi tempi Eccoti qua Adesso caro Piero A te la domanda è questa Hai Sei Da una vita Nel calcio Memoria Come diceva Storica Come lo è nel ciclismo Beppe Conti Per dirti No Un paragone Che non ce ne voglia Beppe Perché Lui è veramente Una miniera Ma a te la domanda è questa Ecco Delle varie Borgotaro Ecco Questa dove la metti Domanda Non è di fine Io nel Borgotaro Ho fatto di tutto Dal giocatore All'allenatore All'direttore sportivo Poi ho fatto il presidente Quest'anno Da due anni Sono riuscito a tornare A fare il direttore generale Che mi Mi è più Un ruolo Più consulo Congeniale Alle mie caratteristiche E quindi Se devo partire Da quando ero giocatore Io Ce ne è tante Borgotaro Che ho visto bene E anche Con un allenatore Ho vinto la terza categoria Ed era una bel gruppo Una bella squadra Però anche quella di quest'anno La paragono A quella A quella di qualche anno fa Quando avevamo vinto Parliamo di 12 anni fa 13 Adesso non ricordo Perché con le date Ormai Ne ho viste troppe Abbiamo vinto il campionato Di seconda E siamo andati in prima categoria Dove siamo stati In nove anni Nel girone piacentino Che è molto più forte Di quello di Dove stanno giocando Gli amici del Fornovo Del Bardi E della Valtarese Questo lo dico È una mia opinione Poi magari loro mi sventiranno Però il Bardi Il Bardi Non credo che mi sventisca Perché l'ha vissuta E quindi Ha visto la realtà Qual è E Io sposo In totola Quello che ha detto Giorgio Prima Sul Sul calcio Che è cambiato Però devo dire Che i miei giocatori Forse perché mi impegno In prima persona Però il venerdì Riesco a portarli ancora In notevole gruppo A mangiare fuori Ti chiedo Dove sei stasso Stato a mangiare una pizza Esatto Riesco ancora Ma ci metto molto impegno Perché Mie testimone sauro Vado negli spogliatori Beh c'è un segreto Quello di pagare Di offrire La pizza No Guarda Guarda Sono Se lo pagano da solo Sono veramente Un gruppo eccezionale Noi non abbiamo le possibilità Di quelle società Di una volta Perché credo che Non ce l'abbiano più in pochi Di pagare tutti Vedere di sera La pizza Non ce l'abbiamo Però Li ho coinvolti In tante cose E fanno gruppo Con la società Sono molto contento Di questi ragazzi A volte mi fanno incazzare Perché se si può dire Mi incazzano No no si può dire Perché Paolo Amico Brugnoli A volte Ho un carattere buono Però quando Io parlo poco Quando devo parlare Ma quando parlare Mi faccio ascoltare Senza alzare la voce Però E ho visto che È quello che temono di più Che c'è molto rispetto E quindi Sono contento di questo gruppo Vedrai che alla fine Sarà quello che fa la differenza È vero Per te Domanda fa Quanto è importante Che il gruppo Segua proprio in toto Le direttive dell'allenatore Perché so che Proprio con voi E il vostro allenatore Insomma C'è stato un momento Che era Piuttosto teso Usiamo questo termine È importantissimo sicuramente Che tutta la squadra Segua l'allenatore Il fatto che sta dicendo lei È successo anche poco tempo fa Che magari Ci ha dato una bella strigliata Tutti i nostri spiatoi Giustamente E Qua si è visto anche un po' Un po' Come siamo fatti noi Nessuno ha obiettato Abbiamo tutti abbassato la testa I risultati ci stanno dando ragione Aveva ragione lui a darci la bacchettata Noi abbiamo tutti recepito il messaggio Sicuramente se non vai d'accordo Con il tuo allenatore È difficile andare avanti Veramente Deve essere Deve avere un bel gruppo Partire dalla squadra Alla società E anche l'allenatore Deve essere Secondo me Perché tutto vada Vada bene Vada bene Allora Ultima domanda per tutti Le prime tre Secondo voi Della Serie A Come si chiuderà il campionato? Un campionato A mio avviso Che è gioggio Inguardabile A parte due o tre partite Però A voi la risposta Il livello è calato Un bel po' Anche lì La interista Non so scaramatico Dai diciamo Inter Roma A Napoli D'accordo sulle tre Ci aggiungo la Juve Io ci metto la Juve davanti Visto che io sono No non credo proprio La Juventus A volte dico che Scommetto che arriverà In finale di Coppa Quello pur a Campionato Ci sono troppe squadre Però ho visto Giocare Al contrario Di quello che dice Giovanni Squadre Fiorentina Pur perdendo L'ho visto Giocato Fiorentina Napoli La Roma incostante Dire chi vincerà Probabilmente La Roma Mina Inesistente Una squadra Assurda Io credo che La Roma sarà quella Roma-Napoli Penso che saranno le squadre Che riusciranno in fondo A fare meglio L'ultima domanda È goliardica Ecco perché Ma da Juventino Sono delle idee Che secondo me La Juve recuperi Perché Secondo me Ha le potenzialità Per arrivare Nelle prime tre Però La più attrezzata La vedo la Roma E dopo Vedo l'Inter Anche nei primi tre posti Io dico Prima Roma Secondo Napoli Terza Juve Anch'io dico Roma Anche perché Se non lo vince Quest'anno È l'occasione buona E Napoli E Boh Perché no Fiorentina Io da Juventino Spero ancora Nella vittoria del campionato Ma la vedo grigia Dico Inter Così Il presidente Squeri È contento Anche Bernazzoli C'è sempre un tono Domenica Partirò dalla panchina Molto probabilmente E vabbè Spero ancora Comunque nella Juve Spero ancora Benissimo Allora A lunedì prossimo Ricordo che dopo di noi Atlas Documentario Con le più belle Suggestive immagini Del pianeta Ringrazio tutti Gli sponsor Ringrazio il basket La grande collaborazione Dell'amico Nicola E velocemente Dico che Se volete rivedere La trasmissione Lo fate domani pomeriggio Ricorda le 17.30 Oppure su Vigliottaro.it Ringrazio Veramente veloce Contini Conad Savani Bottega del pane Gioelleria romano Cattolica assicurazione Centro Atlantide Nunziatini Se dovete ristrutturare Impresa Edile Caseificio Borgotaro Meta Centro Edile Autoscuola Borgotarese Immobiliare Valtaro E naturalmente ZM Infissi Alla prossima puntata Dove protagonista Sarà il presidente Almeno penso Della Valtarese